E ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video vi porterò con me Diciamo in una domenica di gare a Piacenza Adesso godetevi il video e ciao Sì comunque domani dai Qualche sfida partirà Qualche bestia partirà Qualche Qualche Contro di te partirà sicuramente L'unica cosa che non deve partire Sono le mini dentro i muri Ah sappi che se ti metti contro di me Quelle sono le prime cose che partono Te lo dico Le mini sono le prime cose che partono Tranquillo E' talmente semplice Che lo può fare chiunque Cominciamo a documentare La moto Questa è la situazione A 10 e mezza Ancora tutto da montare Tocco di classe Te invece che dici Bene bene Ma il meccanico dov'è? Il meccanico In realtà il meccanico sono io Anche ho visto che c'era il signore del motore Poi quello che mette la benzina Sì sì Questo è quello del motore Questo è quello della benzina Questo è quello che fa Sì sì E' un team completo Un team completo Sì Devo fare questa breve parte di video Per farvi capire come è situata La domenica gare A decenza Ci sono le prove libere Che durano più o meno Tutta la mattina Dalle 10 Ci sono le qualifiche di gara 1 Poi in gara 2 Verranno usate sempre le stesse qualifiche Ma girate al contrario Poi c'è gara 1 Dei bambini Perché c'è un'altra categoria Dove corrono i bambini E poi c'è gara 1 E poi c'è gara 1 Poi gara 2 Bambini E poi gara 2 Adulti Nulla volevo precisare Perché appunto adesso ci sarà anche qualche clip Di gara 1 Dei bambini Dopo ci siamo noi Lì in mezzo Sì Sì Stai pronto? No No Non frena Così Ora vi farò vedere una clip In cui è sintetizzata gara 1 Non ho messo tutta la gara Ho messo solo dei pezzi della gara Perché è stata veramente Una gara divertente Da quest'altro pilota Ci siamo ingarellati E a un certo punto Io ero lì che volevo passarlo Perché ne avevo un pochetto di più Allora dopo un po' di bagarre Ho detto Adesso taglio E lo sorpasso Infatti ho tagliato Ho sorpassato Poi dopo sono caduto E lui mi ha riceduto Questa cosa qua Infatti Nell'intervista Ho detto Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto enduro E enduro stava a significare Questa cosa qua Che a me mi ha fatto veramente ridere Godetevi il video di gara 1 E poi ci sarà Garazzo E poi ci sarà E poi ci sarà Garazzo E poi ci sarà Garazzo Garazzo E poi ci sarà E poi ci sarà Grazie a tutti 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 Un bel saluto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti